E quindi presentiamo il Coro Giovani di Vigo. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità e anche le difficoltà verso degli strumentisti non li ha assolutamente bloccati e quindi sono qua a portarsi da gioco. Due canzoni, con un video, anche, bocchiamola come presenta, come ci ricorda il Vangelo di Luca, lo Spirito del Signore è su di me e gloria a te del Salto 71, dove siamo chiamati ad una notte senza fine, dirige il cristiano di Agile. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Il Coro Giovani di Vigo ci portò per dare il servizio dell'immunità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.